Dio chiama tutti a lavorare nel suo regno e alla fine vuole dare a tutti la stessa ricompensa, cioè la salvezza, la vita eterna. Il Papa, all'Angelus, davanti a migliaia di persone, ha spiegato la parabola evangelica dei lavoratori, chiamati a giornata in diversi momenti, ai quali il padrone di una vigna decide di dare però lo stesso salario, suscitando il disaccordo ma anche l'invidia degli operai assunti per primi. Perché qui Gesù non vuole parlare del problema del lavoro o del giusto salario, ma vuole parlare del regno di Dio. E il messaggio è questo. Nel regno di Dio non ci sono disoccupati. Tutti sono chiamati a fare la loro parte. E per tutti alla fine ci sarà il compenso che viene dalla giustizia divina, non umana, per nostra fortuna. Cioè la salvezza che Gesù Cristo ci ha acquistato con la sua morte e resurrezione. Una salvezza che non è meritata, ma donnata. La salvezza è gratuita. Per cui gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Aprire i cuori alla logica dell'amore, lasciarsi stupire dai pensieri di Dio che spesso non coincidono con i nostri. Così il Papa ha esortato i fedeli ribadendo che Dio non esclude nessuno, anzi vuole salvarci dal vuoto e dall'inerzia e sempre perdona. Al termine Francesco ha ricordato Don Stanley Francis Reuter, sacerdote e missionario beatificato ieri negli Stati Uniti che fu ucciso in odio alla fede per la sua opera in favore dei poveri della Guatemala.